buongiorno o forse buonanotte a bruno benedetti genovese a miami stati uniti buongiorno buongiorno scusate le occhiaie perché che ore sono lì sono le tre del mattino intanto grazie per questa sveglia notturna partiamo da una differenza che riguarda quello che è il suo lavoro lei insegna all'università e quindi quali sono le differenze che in questi anni insomma anche potuto vivere proprio dall'interno tra il sistema scolastico americano e quello italiano che sono ben diversi sì diciamo il sistema scolastico americano tende a mettere lo studente più al centro questo aspetto positivi e aspetti negativi cioè ci sono cose che dall'italia possiamo invidiare dell'america e molte che invece dall'america invidiamo all'italia ad esempio il fatto che gli studenti al liceo possano scegliere moltissimo quali materie fare da un lato porta magari gli studi certi studenti a annoiarsi di meno non a tutti è previsto un curriculum indifferenziato dall'altra gli studenti finiscono liceo americano che non sanno quasi niente c'è un livello imbarazzantemente basso alla fine del liceo perché proprio perché diciamo ognuno sceglie quello che vuole questa cosa poi si riflette anche all'università nel senso che è molto più preparato uno studente che finisce un corso di laurea italiano ad esempio in fisico in matematico in chimica di un laureato americano negli stessi corsi perché il laureato americano in realtà avrà fatto magari 10 corsi 15 corsi di matematica per avere una laurea in matematica mentre il ragazzo o la ragazza che si laurea in matematica in italia o in fisica in italia ha fatto magari 30 corsi insomma 20 30 corsi di matematica e tutti a un livello più avanzato perché erano corsi in cui tutti tutte le persone presenti in classe avevano scelto quella particolare materia vi faccio un esempio più concreto io sono entrato in università a genova ho studiato in italia e il primo giorno ero in classe con tutte persone che hanno studiato matematica quindi erano selezionate per quello uno studente che entra nella mia università che a me come professore adesso si ed è a un corso ma le altre persone presenti magari sono uno che fa teatro uno che fa musica uno che si laurea in filosofia eccetera sono tutti mescolati gli studenti ognuno sceglie un po il piano di studi come vuole questo però fa sì che le classi sono molto più disomogene e molto più simili alle nostre classi di liceo dove c'è un po di la preparazione proprio di partenza diciamo la base essendo così diversa sia anche poi difficile portare ad un certo livello poi tutti precisamente esattamente questo il problema è più difficile portare tutti avanti anche perché tutti quanti hanno fatto percorsi diversi e mentre invece se uno è un professore che entra in un corso non so di terzo anno di matematica o di fisica all'università non so di genova sa perfettamente che corsi hanno fatto gli studenti nei due anni precedenti e può dare per scontato magari 15 esami già mentre io che entro in un'aula e faccio un corso di terzo anno qui a matematica a Miami o la stessa cosa vale per altri posti negli Stati Uniti posso avere magari due o tre corsi come prerequisito ma non si sa bene comunque insomma ma professore senta ma visto che i matematici mancano così tanto in Italia lei come mai è arrivato in Florida? perché mancavano anche qui mancavano anche lì e il clima è diverso sì il clima è diverso i salari anche sono diversi diciamo bisogna vedere mancano ma bisogna vedere cosa si fa attivamente per attrarli l'Italia in questo non è molto maestro mancano anche ad esempio i professori al nord Italia però non è in atto nessuna manovra concretamente di incentivo per portare più persone a insegnare matematica nel nord Italia cioè ogni anno i miei amici postano su Facebook degli appelli disperati di licei della Lombardia o gli altri posti che cercano matematici però concretamente se non li si paga di più è molto difficile ottenerli comunque si può sperare nel buon cuore ecco diciamo che il sistema italiano punta molto al buon cuore certo non è che con la passione ci si paga poi l'affinto o il mutuo questa è la verità forse è matematica cioè io sono proprio una capretta è matematica però lì diciamo finisce arrivo magari è più facile convincere i filosofi questo non lo so potrebbe essere senta in conclusione come si vive lì in Florida tra l'altro poche settimane fa abbiamo visto insomma immagini anche arrivare con inondazioni morti immagini anche molto drammatiche ma normalmente come si viva è un po' come essere sempre in vacanza come abbiamo diciamo idea noi guardando a Miami oppure no? l'America è un paese enormemente eterogeneo quindi dipende da che tipo di vita si fa cioè se una persona viene qui per fare un lavoro come professore eccetera eccetera sì la vita è migliore la qualità della vita è alta eccetera eccetera c'è stato un uragano gli uragani arrivano in Florida che tendono a fare strage soprattutto di un certo tipo di case che sono case provvisorie fatte di lamiera fatte non a norma case costruite prima degli anni 90 in cui la Florida si è ridata tutto uno status per costruire palazzi resistenti agli uragani però tantissime persone però non vivono in questo tipo di case e sono ovviamente le persone più povere quindi tutto dipende da diciamo da quanto è il budget a disposizione la vita per poveri negli Stati Uniti e in particolare in Florida è molto peggiore della vita dei poveri in Italia però la vita delle persone diciamo che fanno un lavoro produttivo eccetera imprenditori, professore è migliore in Florida che non è migliore in Italia quindi dipende c'è più varianza negli Stati Uniti si può vivere meglio, i ricchi vivono meglio e i poveri vivono peggio c'è un gap molto ampio il gap è molto più grande esatto allora professore ci saluta come facciamo sempre con i nostri amici nella lingua del paese che la ospita assolutamente, cosa mi piacerebbe di dire? bye bye al professor Bruno Benedetti e good night insomma visto che tornerà a dormire adesso se no poi domani mattina in classe, in aula grazie, abbiate una bellissima giornata anche a Genova grazie, che bello questo dall'inglese, dall'americano all'italiano have a nice day, ciao have a nice day, bye